Anni e anni in strada e mi sento come al primo chilometro. Marcello! Ma allora li porti tu per primo? Sì. Questi spaghetti sono... di più. Lo so, lo so. Oggi è un gran giorno. Beh, anche Barilla comincia un nuovo viaggio. Andiamo a schiacciare. Nuovi spaghetti numero 5 Barilla. In viaggio verso di voi.